Inizia sulla scelta della calma, quella che è l'attuale settimana dei mercati cripto e anche dei mercati classici, con Bitcoin che però si mantiene sui livelli di prezzo che aveva raggiunto la scorsa settimana. Settimana che è stata la terza settimana più potente dall'inizio del ciclo annuale di novembre 2022, cioè la prima era stata a gennaio 2023 con un più 21,8%, poi marzo 2023 con un più 26,54%, a giugno 2023 con un più 15,67%. Potente sì, ma non troppo. Segno del fatto che, come vi dicevo, la volatilità in questo contesto è comunque più bassa rispetto al solito e si mantiene ancora a livelli più bassi della natura del mercato stesso. Bitcoin ha tra l'altro anche costruito le famose corna, cioè il doppio massimo. Un doppio massimo palesissimo, avendo fatto il touch nella giornata di venerdì ha tentato anche di bercare i massimi a 31.400 circa, ma non c'è riuscito, quindi è tornato poi indietro. Sostanzialmente normale questa cosa qui, ora si gioca con questa candelina. Guardatela come piccola, una candelina di indecisione appena iniziato, ovviamente siamo a lunedì. Questo è un grafico settimanale, tutto si gioca su questa candela. Vi dico anche la mia, proprio su questa settimana, in questo video vi spiego un po' di cosette. C'è poi da andare ad approfondire anche quelli che sono i dati macro di questa settimana e andiamo a vedere Ethereum, Matic e BNB perché sono con un atteggiamento differente rispetto a Bitcoin stesso, ragazzi. In pratica se andiamo a vedere per esempio Ethereum vedete che la struttura di Rialzo non è stata assolutamente consistente come quella di Bitcoin. Potrebbe essere pertanto interessante andarli a vedere perché in pratica ragazzi potrebbero andare in questo frangente mensili a chiudere dei cicli sottostanti molto importanti. Ma a me interessa molto ragazzi perché ho idea nei prossimi mesi che le altcoin potrebbero darci grandi soddisfazioni quindi non demordete in questo caso a Siri però ha detto mi dispiace ragazzi. Quindi in questo caso secondo Siri no, però secondo me sì. Allora non demordete da questo punto di vista così andremo a poi comprendere un po' come agire nei prossimi mesi. Lancio la moneta per vedere un po' che cosa esce fuori. E' uscito bene, è uscito bene. Ma crociamo le ditte, vediamo se funziona. Beh, insomma, è una firma, gliela metterei. Va bene, allora iniziamo con il video di oggi. Prima di farlo però vi ricordo la promo di CoinCall, questo nuovo exchange che sarà solo future e opzioni. Viene lanciato, non sappiamo come funziona, non sappiamo niente, ma ci regalano soldi. Quindi in pratica stiamo facendo questa promo perché ci danno dei cash. In totale le promo ragazzi possono arrivare a 3.1 Ethereum di opzioni, quindi non sono valori di Ethereum, ma in questo caso vedete per esempio questi due ETH valgono più o meno 100 dollari, 200 dollari, quindi 100 dollari l'uno agli attuali prezzi perché sono delle option. Poi abbiamo la promo dedicata solo alla nostra community con i link in descrizione, quindi non lo avete se usate altri link. In questo caso vi danno un 0.1 ETH in opzione se fate un trade dal 3 luglio e se fate 6 giorni di trading anche con 2 dollari, giusto per farvi capire. Vi danno un ETH in opzione con la A-Strike 2.5 che attualmente vale intorno ai 100 dollari. Giusto per capire e li potete anche vendere e poi farci quello che volete. Anche prelevare, interessante questa cosa per vedere e valutare anche questo exchange. Partecipiamo, vediamo come va, poi vediamo questo exchange che cosa fa, se lo vogliamo utilizzare che è un buon exchange lo useremo, altrimenti no. Quindi questo è il concetto di fondo che vi sto dicendo. Vi lascio il link in descrizione per partecipare a questa super promo ragazzi. Andiamo a vedere le news della settimana. Intanto discorso della Lagarde, discorso della Lagarde, poi nella giornata di martedì non c'è granché. La valutazione, le vendite delle nuove abitazioni sono previste più o meno uguali alle precedenti anche negli Stati Uniti, quindi non c'è una frenata dell'economia. Ancora continua forte l'economia statunitense, anche le scorte di petrolio sono previste in leggero aumento, ma niente di scioccante, niente cose strane. Poi la giornata più clou secondo me è giovedì 29 di giugno, dove avremo in sostanza le richieste di sussidi di disoccupazione che può essere interessante e soprattutto il PIL. PIL che è atteso, vedete, in contrazione, ma ancora positivo. Nonostante tassi di interesse stellari, nonostante quello che si aspettava all'inizio dell'anno, crash, spaventosi, non è avvenuto niente, soft landing, parete, dell'economia. Magari avverrà invece una recessione più pronunciata il prossimo anno. Tanto è vero che i mercati in questo momento stanno anche scontando l'ennesimo incremento dei tassi della Fed nella prossima PONC fra un mese. Infatti, ragazzi, se andiamo a vedere poi l'attesa, vedete qui con il nostro classico grafico delle probabilità, vediamo che gli istituzionali si aspettano un rialzo per il 75% dei tassi di 0,25. Quindi nel rialzo di 0,25, il 70% degli istituzionali si aspetta questo rialzo. Perché? Perché Powell è stato chiaro, ha detto altri due li faccio. Quindi lo ha detto, quindi anche lì, ragazzi, sarà uno shock? No, nessuno shock, l'ha detto Powell. Secondo me i dati in questa fase hanno meno rilevanza di quello che avevano all'inizio dell'anno, quindi ritorniamo alla natura stessa del dato delle news, cioè poche rilevanze, i mercati vanno dove vogliono, tranne che in alcuni contesti, come appunto quello che abbiamo visto. Quindi i famosi sei mesi in cui c'è la politica della stretta monetaria, oppure quando ci sarà l'exit strategy dai tassi alti, sono la stessa cosa. Poi abbiamo l'IPC europeo, quindi il tasso di infezione europeo, che è previsto in ribasso dal 6,1, ma comunque ancora molto alto. Stemmo che comunque si muova qualcosa anche in Europa. Questo è positivo anche perché i tassi in Europa sono veramente tanto alti e il fatto che riescano a mantenere così alti per tanto tempo con i debiti come quello italiano, per esempio, o altri stati che sono estremamente indebitati, la vedo difficile. Quindi lì ci sarà la vera partita dell'anno 2023 e 2024, ragazzi, cioè quello di comprendere quanto questi tassi di interesse così alti possono essere sostenibili da economia avanzata ad alto tasso di debito. Detto questo, andiamo poi a vedere subito il grafico di Bitcoin a livello settimanale per comprendere la questione tecnica di questa settimana. Candelina che ci sta alla perfezione e una candelina di attesa. Queste sono candeline inside molto strette, sono candeline di indecisione che poi hanno una valenza molto importante nella loro fase di sviluppo. Ovviamente oggi essendo lunedì e questo è un grafico settimanale, questa candela non sappiamo se sarà, diciamo così. Però ragazzi, è normale che il mercato vada a riposare in questa fase. Vi faccio vedere un grafico che sto portando avanti con la mia Academy per quanto riguarda questa fase temporale di questa settimana. Questo è trading veramente veloce, è un trading che stiamo portando avanti proprio in Academy in questa fase. La mia attesa, ragazzi, è in pratica che il mercato, che Bitcoin stia andando a chiudere in sostanza un ciclo settimanale un po' anomalo, quindi un bisettimanale corto si definisce così in questo orizzonte, in questa fase. Quindi mi aspetto che questa struttura vada a fare una specie di doppio minimo o una struttura di minimo in questa zona, tra domani, martedì e mercoledì. Quindi in una fase del genere poi mi aspetto una ripresa del nuovo ciclo. Quindi questa settimana il mercato potrebbe in effetti andare a tentare di fare il break famoso dei 31.000 o comunque fare un retest. Diverso il concetto nel momento in cui ha una fase di chiusura come questa tra un paio di giorni e dovesse esserci una fase di leggero up e poi nuovamente un break, attenzione perché qui sarebbe poi un'inversione di trend. Quindi qui questa struttura sarebbe invalidata. Però al momento, essendo trading, ovviamente queste cose si fanno day by day, non si può fare prima, ragazzi. Questo è ovviamente un'operazione per questa settimana. Se volete valutare questo tipo di operatività, perché no? Andate a ragionare in termini di lungo verso domani, dopo domani, se c'è un buon minimo. Ovviamente non fate by the deep, io lo continuo a dire, non sono consigli finanziari. Non comprate a ribasso, comprate a un'inversione di trend seguendo quello che posso train fare, la vostra strategia e non potete fare. Una cosa del genere se non avete formazione, leggete, fate corsi, eccetera. E' impossibile fare trading senza avere formazioni. Se lo fate e a vostro rischio e pericolo siete dei pazzi, psicopatici. Avete tutta la mia stima però, perché comunque siete pazzi. E poi si imparano le cose. Però ricordatevi che prendete i bastoni nei denti al 100%. Quindi ok, la follia, come diceva Steve Jobs, però i bastoni nei denti ricordatevi che poi vi arrivano. Allora, questo da un punto di vista di struttura del ciclo veloce, insomma, di questa proprio settimana, per spiegarvi quello che mi sto attendendo io. Ne ho già parlato in Academy, ieri ho fatto un super video in Academy, gigantesco su tutta la struttura ciclica, che però ragazzi, io ho detto io stesso a loro, vedetelo due o tre volte, perché è incomprensibile se non sapete la ciclica, perché è veramente complesso quel video. Però adesso troverò nei prossimi giorni un modo di semplificarvi anche qui qualcosina e cercare di spiegarvi. Però veramente, vi assicuro, è molto difficile. Quindi dovremmo farlo in corso d'opera man mano che il mercato svela le sue carte. Difficile farlo prima. Allora, qui la struttura di Bitcoin. Questo è un nuovo ciclo mensile e su cui non ci piove. Io il ciclo mensile l'ho settato a 30, seppur all'interno di questo video che vi sto facendo nella mia Academy, ho indicato che potrebbe essere più corto, quindi me lo aspetto in chiusura sostanzialmente più velocemente, con una specie di mensile molto corto o un bisettimanale lungo, intorno ai 20 giorni, per una questione tecnica. Voglio vedere se sarà così, ovviamente è una mia aspettativa, non sono dati al momento che ci confiugono una cosa del genere, però io lo sto considerando in questo modo per una questione tecnica che ovviamente è difficilissimo a spiegare qui adesso nel video. Il livello di resistenza è il madre, il 31.000, ci deve chiudere sopra almeno a livello daily. Attenzione perché io non credo che possa fare un massimino qui e poi fermarsi, ma io sono convinto che un break confermato e in piena settimana dei 31.000 scaturirà un'impennata di Bitcoin con un pump improvviso che riporterà probabilmente all'interno di questa struttura di prezzo che era quella del maggio 2022 con il fallimento, il pre-fallimento di Luna, quello che poi avvenne definitivamente in quella settimana. Quindi teoricamente si ritorna in pratica intorno a questo livello, quindi il passaggio in questa zona, io vi ho inserito quella che è una zona di break che non può essere solo indicata come un unico prezzo ma è tutta questa zona, se dovesse tentare un break nel momento in cui il mercato si accorge che questo break verrà confermato ci sarà il pump immediato a questo livello. Io la vedo in questo modo, poi vediamo insomma perché di solito i mercati come le cripto fanno questo tipo di atteggiamento proprio in questo tipo di contesti. Allora, detto questo, andiamo a comprendere invece il livello ciclico che la spinta di fare questo pump potrebbe avvenire proprio alla chiusura di questo ciclo B settimanale, cioè quello che vi ho fatto vedere prima. Quindi o domani o dopo domani, se non l'ha fatto qui mi sembra un po' eccessivo questo minimo, secondo beh, continuo a fare delle fasi di riposo qui e poi se ne va a tentare il breakout. Solo ed esclusivamente dopo la fase di questo tentativo di breakout tiriamo le somme e vediamo che cosa potrebbe succedere perché in teoria dopo la prima decade di luglio, già ve lo anticipo, ci sarebbe la possibilità di tirare il remi in barca per un po' e attendere qualora il mercato dovesse invertire. Cioè non se è in trend, lo ribadisco, se continua a salire, si sta sul carro, ma se inverte in maniera evidente, a quel punto potrebbe anche convenire tirare le remi in barca per una serie di motivi di cui discuteremo nei prossimi giorni. Allora, detto questo, andiamo anche a vedere Nasdaq velocemente, velocemente, poi passiamo alle altcoin che vi avevo promesso. Nasdaq, ragazzi, è in fase di chiusura di questo ciclo teoricamente un B mensile da circa 77 giorni, 52 barre, e l'ho settato così e chiuderebbe proprio nella prima settimana di luglio, quindi intorno alla... qui è settato intorno al 10-12 luglio, quindi prima decade di luglio. Allora, qui probabilmente stiamo già andando a chiudere questa struttura ciclica su Nasdaq. Da notare che, come da attese dei grafici che avevamo visto, addirittura c'è stata una decorrelazione, anzi, correlazione inversa anche in questo caso, totalmente evidente tra Nasdaq e Bitcoin, quindi continua questa fase di correlazione inversa. Bitcoin sale in maniera considerevole e Nasdaq scende. Guarderemo nel prossimo video anche il famosissimo grafico Nasdaq-Bitcoin che è indicato l'inizio appunto di un nuovo ciclo semestrale, probabilmente anche per lui. Andiamo a vedere la questione Ethereum. Allora, ragazzi, ETH, 80 giorni, 90 giorni di tempo per dirci le sue carte. La questione annuale del ciclo annuale di Ethereum ancora oggi non è comprensibile perché nel momento in cui abbiamo un ciclo annuale iniziato a giugno e non a novembre, dobbiamo tenere presente che teoricamente la struttura ciclica annuale di Ethereum può ancora svilupparsi e che qui potrebbe essere iniziato l'ultima fase ciclica che va a chiudere i giochi in questo modo, cioè portare verso agosto-settembre a il minimo, importante anche per Ethereum e di conseguenza probabilmente anche Matic, BNB che andremo a vedere. Questa view è estremamente complessa, estremamente anomala, è molto difficile ma potrebbe essere proprio quella che il mercato sta seguendo. Tra le altre cose verrebbe annullata solo ed esclusivamente dal superamento dei massimi storici a 21.800 in questa zona perché se non arriva lì non possiamo escludere questa view e quindi questo ciclo trimestrale potrebbe essere l'ultimo probabilmente dell'annuale di ETH e in questo caso avremo anche una desincronizzazione palese della struttura di Ethereum con Bitcoin, cosa strana ma non stranissima perché comunque lo aveva già fatto nei precedenti cicli ed è veramente interessante una cosetta di questo tipo. Quindi c'è ancora spazio di salita per Ethereum 6 intorno alla prima decada di luglio tant'è vero che io quella struttura della decada di luglio la sto monitorando come una fase di possibile topping di alcuni strumenti e appunto vi dicevo magari è il caso poi di tirare i remi in barca qualora il mercato dovesse invertire perché se poi inverte ci da conferma che questa view potrebbe essere vera e quindi a quel punto ci converrebbe tirare i remi in barca ma ovviamente vi ripeto queste sono cose che potete fare solo se avete formazione e in questi sono ottime fasi per i trader ragazzi infatti lo state vedendo con i vostri occhi come il mercato sta andando grandi possibilità anche da questo punto di vista. Quindi Ethereum in questo momento è anche estremamente più tebore di Bitcoin lo ve la dice anche il fatto che rispetto ai massimi storici del 2023 ai massimi del 2023 Ethereum dista circa il 14% con Bitcoin che invece li ha superati nella giornata di venerdì seppur poi tornando indietro ma comunque è stato fatto il break tra le altre cose ragazzi giusto a farvi sorridere in questo momento ho avuto un déjà vu di me che dico una cosa del genere che risale probabilmente al 2019 ve lo dico veniva molto chiara ho avuto questo déjà vu in questo istante va bene chi di voi è un amante della psicologia mi può spiegare che cosa sono questi déjà vu in un commento qui su YouTube non mi scrivete se sono uscendo di testa perché quello lo so già è sicuro che sto uscendo di testa vabbè allora detto questo andiamo invece a vedere la questione legata alle altre cripto vediamo se riesco a prendere il grafico che volevo guardare ragazzi eccolo qui e andiamo a vedere Matic come dicevo e poi PNB ok siamo su Matic ragazzi struttura ciclica di Matic ancora in divenire 76 giorni con un minimo posizionato intorno a fine agosto come quello di Ethereum quindi in zona agosto settembre come quello di Ethereum questo potrebbe essere l'ultimo ciclo dell'annuale di Matic segno che in questo caso vedete potremmo avere una struttura che si va a completare in questo modo attenzione perché se dovesse effettivamente creare un ciclo del genere sarebbe un'occasione molto ghiotta poi per un'eventuale ripartenza infatti di questo ne parleremo nei prossimi video proprio a cavallo dell'estate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi perché saranno dei mesi molto ghiotti secondo me anche da un punto di vista delle altcoin e dovremmo valutare non in questi mesi che stanno avvenendo perché vi sto delineando appunto una fase di continuazione del trend ribassista ma dopo e bisogna prepararsi dopo le cose non arrivare poi tardi quindi Matic secondo me è chiuso ancora in questa struttura solo ed esclusivamente superamente del 082 configurerebbe che qui potrebbe avere anticipato la chiusura del ciclo annuale e quindi aver fatto un inizio di un nuovo ciclo annuale ma dobbiamo fare almeno una cosa del genere prima ma la conferma poi ufficiale si avrebbe solo sopra 095 è un po' tardi però poi lì entrare lì il mercato ci avrà un po' spiazzato bisognerà fare trading e vedere però al momento non ci sono segnali di grande forza di Matic anche in rispetto a quello che Bitcoin sta facendo proprio per questo motivo vi sto dicendo sono sempre dell'idea che l'ipotesi che le altcoin come Ethereum Stezio Matic adesso vediamo anche BNB uguale debbano ancora concludere la loro fase ciclica mid balena fra le idee è quella che io apprezzo in questo momento quella a cui do più probabilità fermo restando che sono consapevole di queste questioni che vi sto dicendo potrebbe avere anticipato e quindi spiazzare tutti e partire un silurone che indicherebbe poi l'inizio del nuovo ciclo annuale questo per esempio per farvi capire è stato l'inizio del ciclo annuale quello di giugno per quanto riguarda Matic andiamo a vedere BNB che ha sofferto e non poco e soprattutto con la fase di ripresa di questi giorni non ha tirato fuori un ragno da buco perché sostanzialmente è rimasta al palo in maniera palese segno anche che c'è un po' di struttura di demoralizzazione verso Binance dovuto un po' alla guerra che la SEC gli ha fatto fermo restando che poi Binance magari a sette vite come i gatti si va a riprendere quasi sempre però la struttura ciclica è iniziato un nuovo trimestrale da circa 80-90 giorni dovrebbe essere proprio sul minimo di giugno questo trimestrale sembra molto debole in questa prima parte non è detto che non faccia poi un breakout attenzione a questa fase perché come Matic nello stesso identico modo BNB potrebbe aver troncato il ciclo annuale qui e quindi qui essere già nel nuovo annuale il nuovo annuale di BNB va tradato long io traderò long questi annuali nuovi quindi in questo momento il mio obiettivo sarà nei prossimi mesi quelli di definire l'inizio di questi nuovi annuali e cercare di cavalcarli ragazzi quindi questo sarà il mio obiettivo ed è molto chiotto fare così allora questa struttura vedete se poi va a breccarmi 256-260 dollari potrebbe indicare che questo ciclo non appartiene in effetti al precedente magari può andare a costruire un livello in questo modo qui perché potrebbe in effetti essere rialzista ovviamente se è un trimestrale rialzista è iniziato un nuovo annuale però qui è troppo tardi per andare a operare per noi se andiamo a scomporre questa struttura ciclica in mensili andiamo a vedere che ci sono alcune scadenze quindi la fase di top anche qui dovrebbe avvenire intorno alla fine di questo ciclo mensile quindi la prima decade di luglio per poi andare a fare appunto la chiusura di questa struttura ciclica e quindi magari fare una cosa del genere e poi iniziare la fase di debolezza di Matic stessa io starei a vedere cosa fa appunto in questo ciclo trimestrale da 90 giorni perché secondo me è fondamentale andare a capire questa cosa però da un punto di vista di trading se riuscite magari a cavalcare con un trend questo eventuale rimbalzo di BNB sarebbe interessante fermo alessandro che dovete utilizzare trailing stop e stop loss perché essendo probabile che questo sia l'ultimo trimestrale dell'annuale poi diventa ribassista quindi vi spazza via e diventa pericoloso quindi ok il tentativo di salire sul carro qualora stia anticipando e tutto il resto però dovete mettere stop e trailing stop perché mettete in conto che vi può andare a stoppare detto questo video della settimana un po' più operativo del solito fatemi sapere invece poi cosa ne pensate se avete anche alcune idee diverse per esempio su Matic e BNB scriviamoli nei commenti per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video ciao